buongiorno a tutti oggi direzione lago di paterno ovviamente prima tappa un bel panino a cotilia questa è cotilia ovviamente in provincia di rieti dove possiamo trovare le terme e tanti chioschetti per dei bei panini con la porchetta che hai comprato? tanta? tanta buongiorno a tutti 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 buongiorno a tutti